Oltre 6.000 giovani toscani nel 2001 hanno richiesto la carta unica toscana, la card del gruppo FS per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, necessaria per usufruire del bonus 18 anni e viaggiare così gratis per tutto agosto sui treni regionali. Sommando i coetanei che già possiedono la card per i loro spostamenti quotidiani sui mezzi pubblici, la platea si allarga a 10.000 giovani toscani. È stata veramente una soddisfazione anche ricevere alcune comunicazioni di ringraziamento e di incoraggiamento da parte di alcuni di questi giovani, ricordo quelli del 2001, che nel mese di agosto hanno potuto utilizzare il treno gratuitamente, quindi una promozione di questo mezzo che è un mezzo assolutamente compatibile con l'ambiente e quindi siamo veramente intenzionati a riproporla anche per il prossimo anno. Ora i ragazzi potranno continuare a caricare sulla card, che è nominale e strettamente personale, i loro biglietti o carnet di biglietti per il trasporto ferroviario e su gomma, un modo per incentivare la mobilità sostenibile e per favorire la conoscenza di tutti gli angoli di Toscana raggiunti dalle linee ferroviarie.